Ora investiamo le persone, si Che c'è? Cosa vuol dire ora investiamo le persone? Dobbiamo decidere che ammazzare No ma io ho fame, sono le 6 e sono le 4 ho ancora mangiato niente da ieri Eh da un attimo, 10 minuti Minchia, no, c'ho fame Allora, chi investi? Ascoltami, guardami Ok, allora fondamentalmente, tu stai a guida? No, 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 tu devi semplicemente decidere chi muore, ovvero No, le 4, quelli di subito Aspetta! Ma no, ma ammazzo io, scusami Ma perché? Non tu, non ci sei Però vedi qua, questo è un cane, un bambino, un ladro e un obeso Oppure muoiono un ladro, una persona normale, un vecchio e una donna? Vedi, ti dicono qua chi muore Chi ammazzi fra bambino, cane, ladro e obeso? Ma va, quelli, ovvio Quelli in macchina? Ma sì, cazzo me ne fregano, c'è dentro un vecchio Sono un vecchio, un ladro, un atleta e una donna No, ma solo per il bambino, non ammazzo Eh, per il bambino, vero? Poi c'è, no, io mi stavo perdendo per il cane Non te ne fregano il cane? No, poi è vero, c'era il semaforo da vedere, è vero? C'era il semaforo? Perché il semaforo era verde, quindi avevo una ragione loro Ah, non l'ho visto Per il cane, raga In questo caso abbiamo Guidano una donna No, tre donne, fondamentalmente Oppure tre barboni Come fai a scegliere? Eh, come esci tu? Ma non puoi scegliere Tre donne o tre barboni? Ma che... Ho capito, allora Elena Già che dici così mi fai già dei coglioni Perché sono degli esseri umani anche loro, eh Cioè sono tre uomini Vabbè, homeless people Vabbè, che cazzo vuol dire? Sono tre uomini comunque Perché vengono descritti come tre homeless people? E vabbè, quindi? Che cosa contano? Meno di tre donne? Anche a me sembra troppo rischiobano sto gioco, eh No, infatti io facciamo una bella roba Chiudiamo il muro al machine No, 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 no Ma come fai a scegliere? Cioè sono esseri umani nel senso che il discorso è? È uguale? Cioè 50 e 50? Allora io in questo caso In questo caso? Eh Non c'è il semaforo in questo caso? Cancelliamo il voto, tranquilli Oh, che dobbiamo fare? Fai tu, mo Fai tu Io come vedi i cani so rispondere Vabbè, ma ammazzo loro Ok Ma però è vero, scusami Loro sono sulle strisce pedonali Eh sì Tecnicamente c'hanno ragione loro Che stanno attraversando Eh sì, infatti sì Quindi Ok No, devi provocare solo Io non sto a fare niente Quindi Ok, qua sta andando da solo la macchina Quindi o uccidiamo un medico Un nonato E un senza detto Oppure Vabbè, ma ammazzo loro Aspetta, però vedi Loro sono nel rosso, eh Eh appunto, ammazzo loro Quindi ammazzi più persone Ah ma scusami Ma perché devo ammazzare un bambino Una dottoressa E un barbone E però anche qua c'è un bambino Ma ho capito Ma se sono Stanno attraversando con il rosso Questi hanno ragione Che devono creparci loro Perché loro attraversano con il rosso Ok, va bene Ah io ammazzo loro Ok Qua abbiamo Due donne, due bambine Una vecchia Oppure due uomini Due bambini e un vecchio Vabbè, qua è letteralmente Un maschio o femmine Io infatti non premo Ah io in questo caso premo io Ma perché secondo me C'è a questo punto Non fare niente La risposta giusta Cioè Questa vita Va dritto È buona Tre donne oppure Un, due, tre Un, due, tre, quattro donne incinte Incinta Quattro donne incinta E una no Però stanno attraversando con il rosso È troppo essere il kill Stanno attraversando con il rosso Eh Mi dispiame Spiace per queste qua Ma c'è Ci rimangano secche Stanno attraversando con il rosso Ma capito Ma perché Io non capisco Perché dovrebbe morire Tre persone che sono giuste E non E dovranno rimanere vivi Allora qua Non faccio scegliere Faccio io Faccio io No aspetta Faccio io No Fai a serie un attimo Scusami O il vecchio o il gatto Ok Ma tu Anche qua Il vecchio Sto attraversando col verde Ah il gatto è con il rosso Eh E poi uno è un gatto L'altro è un gatto Ho capito Vabbè Fosse chilo Anche io Metterai a piangere È capito Gatto Lui non lo sa che è rosso Un benino Non lo sa che è rosso Vabbè Non lo sa che è rosso Un gatto Dai qua Bambina che attraversa col rosso Bambina che attraversa col giallo Vabbè mica Col bianco Col verde Che ha ucciso Qua che era col rosso L'altro deve sterzare Per accoppare una Che sta attraversando col verde Che cosa sono Proprio in questo gioco No io qua Io ti giuro che qua Metterei questa Perché se tu Metti questa Stai facendo Stai palesemente Dando più importanza sociale Come se questi Possono essere in qualche modo Più utili Eh ragione Ragione concordo È rosso Ammazziamo i rossi È rosso Per me è rosso Per me vince Questa volta che l'ha cancellato Lo sai vero Ok Lo cancelliamo adesso No dopo No no cancelliamo adesso Dai lo faccio dopo No cancelliamolo ora Dai No però nascondelo Non cancellarlo Perché Io mi nascondo sempre Lo ricancello Eh nascondiamo allora Questo vodva Hai detto una frase Elena che decontestualizzata Non è che voli Il rosso No 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 Annulla pubblicazione Vecchio Hai Mi fai divertire Luca No Elena Filati che tu non ti rendi conto Perché sei in buona fede ovviamente Comunque è il gatto maggiore E rosso Per me se è rosso Per me Elena Cosa Possiamo dire per me Se attraversi con il rosso Che significa che è rosso Non esiste il colore di pelle rosso Va bene vai Esiste il colore di pelle rosso No no Comunque è la persona che attraversa male No no ma infatti Ok Vabbè qua Allora io Io ne la faccio fare a te Però qui devi essere sincera Io ti Io so sincera Allora No Elena Occhio Eh no Eh ho capito Ci sono tre Eren Ma che c'entra Di là sono tre persone Qua cinque persone Ma tre Eren Due Kilo Stanno attraversando col verde E loro con il rosso Questo dovrebbe sterzare appositamente Per ammazzare Cioè capisci Eh ma bimbo Dai E ya Se si ritorcerà contro Verrà investito a Eren No no Non è vero smettila No dire così Dai No no Mi fai mentire da piangere No 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 raga no Dove è? Qua Ultima Allora Genitori con bambina Tre vecchi Beh in questo caso no Ma erano giusto No non erano giusto No Stavano attraversando sulle strisce Eh ho capito ma bambini Eh dai Eh dai Vabbè qui non è che c'è molto Ultimo Cos'è? Questo è facile È verde Meritano loro Sì Ok Quindi abbiamo 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 fatto fuori un sacco di Ok Più uccisa Più salvata Non ce ne frega niente Cos'è? Ok Abbiamo salvato più Ah oddio Ah no non ce ne frega niente Di quante persone stiamo uccidendo Guarda dove siamo You siamo qua Perché si chiama Eh vabbè Capì Poi Abbiamo protetto i passeggeri No Gli altri sono qua Raga ma facciamo schifo Noi abbiamo seguito un sacco la legge Vedi Abbiamo seguito tantissimo la legge Fai simile Gender preference Pfff Vabbè ma non c'è Noi non ci basavamo su quello Ok Minchia gli altri sono qua Io sono qua Incredibile So hai il preferito minchia A coppare cinque persone Per salvare tre cani Age Age guarda qua Dai questo è buono però Mai far guidare o scegliere a bogarita Esatto Dai ci sta Mi sento una persona un po' più di merda Social value preference Noi preferiamo Poveri e ricchi No non i poveri e ricchi I ladri e i medici Vabbè Sì intendo Quelli che poi Cioè Ma no poveri Vabbè i cattivi Ecco perché non esci molto Hai capito Com'è andata Ti senti moralmente Ti senti moralmente No la famiglia della madonna Adesso mangio Ti senti moralmente migliore adesso Ma vabbè In realtà sono Cioè scusami Questi stanno Accettando la legge Traverso una colherde Che cazzo Devo sterzare Ammazzare altre persone No 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 Crepici rimani secco Ok Dai Devo mangiare Te lo prometto Io rimango qua Fin quando hanno Sacchi Cioè insomma Che ansia Perché Così perché sono comodo Ok vabbè tranquillo Grazie a tutti